I chirurghi sono molto attenti ai dettagli. A noi piacciono le statistiche, le liste di cose da fare e le procedure degli interventi. I nostri pazienti vivono perché a noi piace studiare i passaggi, ma per quanto vorremmo sempre fare affidamento sui numeri e su un protocollo, sappiamo anche che alcune delle più grandi scoperte scientifiche sono capitate grazie a un incidente. Ciao, Carebbe, vuoi un passaggio? Oh mio Dio! Che ci fai qui? Ma perché sei nuda? Io vado, eh? Io no! Ti prego, non arrabbiarti. Derek sarebbe dovuto essere Alex. Ok, però Alex è uscito da dieci minuti e da quando voi due state di... Da quando c'hai sorpresi la prima volta? Lexi, è di Alex che stiamo parlando. Emotivamente stai come me tre anni fa. Non puoi provare sentimenti per lui, ti rendi conto? Sì, certo che no. No, è solo sesso, d'accordo? Non ci sono sentimenti di mezzo. Certo, perché tu sei il tipo di ragazza che non prova sentimenti. Il tuo cuore vive nella tua vagina. Non... non è vero! Ok, giuro che non questa volta. Ok, certo. Il mio cuore non vive nella mia... vagina. Non è vero!